La deseta pallavolo dei primi di settembre ha cominciato la preparazione per il nuovo campionato di B1 che vedrà i ragazzi del coach Marano impegnati mattina e pomeriggio. Importanti colpi di mercato sono stati messi a segno dal direttore Terri Zuccotti che certamente ha aumentato il livello della squadra, alzando anche l'asticella degli obiettivi. Il mercato si è chiuso, mister ci dice quali sono gli ultimi acquisti e se la sua squadra adesso è al completo. L'ultimo acquisto è Marco Lotito, giocatore che viene da Firenze, ha vinto già diversi campionati di B1 quindi è una persona abbastanza con esperienza che può trascinare bene i giovani che sono all'interno della squadra. La squadra è stata completata bene, nel senso che la classica ciliegina sulla torta è di quelle buone quindi sta a me, sta allo staff tecnico, allo staff dirigenziale poi accompagnare questa squadra per cercare di arrivare alle posizioni di classifica che secondo me saranno belline. Quest'anno sarà veramente una bella avventura. Infatti diciamo che all'inizio col fatto dei tanti giovani forse il primo obiettivo era la salvezza però dopo questi acquisti forse qualcosa in più si può puntare o sbaglio? Sa, a volte si inizia dicendo sempre sai salvezza, poi pian piano ho capito ogni acquisto vedendo anche i movimenti di mercato delle altre squadre cerchi sempre di muoverti in maniera da aspirare a qualcosina in più anche perché la crisi economica in qualche modo aiuta chi comunque qualche soldino da spendere per qualche giocatore ce l'ha. I giocatori hanno comunque diminuito le pretese economiche e quindi si sono riusciti a prendere giocatori che forse qualche anno fa non si riuscivano a prendere. Quindi la squadra è stata completata veramente bene e il livello delle altre società non è stato altrettanto valido quindi sicuramente un livello leggermente più basso rispetto alla passata stagione molti giovani in campo vedremo nelle varie società che andremo ad affrontare e avere un roster del genere per noi ci fa vedere un pochettino la zona alta speriamo, lavorando bene naturalmente.